signore e signori buongiorno lorenza da milano scrive questo tutte le volte che vatti in pizzeria con gli amici dopo aver mangiato meta pizza sono già piena bere molta acqua minuto un po ma conosci una strategia migliore per aprire lo stomaco in modo da poter finire senza problemi la mia pizza senza fare la brutta figura di avanzarla nel piatto allora anche se ci fosse non te la direi la tua domanda lorenza è semplicemente raccapricciante per quale ragione se tu sei piena devi andare avanti a mangiare non esiste ma stai scherzando la sazietà è un meccanismo già di per sé debole per proteggerci dall'eccesso di alimentazione e se tu sei piena che non ce la fai più mentre stai ancora mangiando vuol dire che hai già mangiato fin troppo e siccome non vogliamo che tu debba venire da noi in futuro per chiedermi cosa fare per dimagrire è molto meglio pensarci subito adesso tu mi parli di brutta figura io ho capito il tuo problema perché è un fatto culturale nella nostra cultura non in altre ma nella nostra sì noi siamo abituati fin da piccoli che i nostri genitori ci dicono che non sta bene avanzare il cibo nel piatto perché così gli avevano insegnato i loro genitori e perché non si erano mai vostri il problema di mettere in dubbio questo insegnamento c'è gente che muore di fame per cui per carità non si butta via il cibo allora Lorenza e amici miei tutti al bambino del biafra che sta morendo di fame non gliene può fregare davvero di meno che voi finiate o meno quello che avete nel piatto perché purtroppo in entrambi i casi non gliene viene in tasca nulla non è che se voi vi ingozzate a lui piove dal cielo miracolosamente un pollo arrosto non succede allora per rispetto ma scusate che cosa c'è di rispettoso nei confronti di chi non ha da mangiare nel fatto di nutrirsi oltre la sazietà come dire toh guarda tu che stai morendo di fame io ho già mangiato talmente tanto che fra un po' scoppio ma vado avanti ancora a mangiare perché io ce ne ho tanto lui mi dice toh oggi per rispetto a te digiuno tutto il giorno anche se ho il frigo pieno ma non il contrario quindi veramente toglietevi dalla testa questa cosa qui e non insegnatela ai vostri figli basta quando uno è sazio smette di mangiare io mi ricordo l'anno scorso ero in vacanza qualche giorno alle terme c'era seduta davanti a noi questa famiglia di obesi padre obeso madre obesa e questo bambino avrà avuto 8 anni obeso anche lui che a parte che mangiava in modo veramente schifoso senza limite ma soprattutto questo povero bambino che aveva di fronte sto piatto di pasta cicloppico al ragù sul quale la madre obesa aveva rovesciato tutta la ciotola del formaggio grattugiato che a un certo punto dice basta mamma io non ho più fame posso andare a giocare e questa ve lo giuro perché non so cosa mi ha trattenuto dall'andare ad insultarla questa sciagurata gli fa no prima finisci quello che è nel piatto poi vai a giocare ma porca miseria non lo vedi che è obeso sta già scoppiando fra un po' roto la cosa la obbligi a mangiare ancora di più di quello che ha voglia farlo andare a giocare che magari brucia qualche grammo di tutta quella ciccia che ha no invece di metterlo dentro ancora allora in conclusione se volete davvero aiutare chi sta morendo di fame fate una donazione aiutate un'associazione di volontariato adottate un bambino andate raggiù voi stessi invece quando siete sazi e avete ancora roba nel piatto fate il favore lasciatela lì perché se non ce la fate più significa che avete già mangiato troppo e se vi forzate a svuotare il piatto l'unica cosa che fate davvero è del male a voi stessi la lanciate nel piatto non c'è niente di vergognoso anzi io addirittura ad alcune persone che devono dimagrire il fatto di lasciare l'ultimo boccone nel piatto lo consiglio come misura di igiene alimentare non solo per mangiare qualcosa in meno ma soprattutto perché devono imparare ad esercitare la propria capacità di autocontrollo e di misura e tu Lorenza quando sei in pizzeria con gli amici e non ce la fai più chiede a qualcuno se ne vuole un po' se no la lasci nel piatto senza problemi oppure se sai già che ne mangi solo metà puoi chiedere subito a qualcuno se vuole fare la metà con te oppure ne ordini direttamente solo metà oppure ancora visto che in genere l'impasto della pizza è fatto con farina bianca e non con farina integrale la farina bianca è nostra nemica quello che puoi fare è eliminare subito la crosta che in pratica è pane bianco e poi spostare col coltello tutto quello che sta sopra la pizza il pomodoro il formaggio le verdure quello che è tutto da una parte lasciando la base così tolto di mezzo un po' delle calorie vuote del pane bianco e salvarti tutti gli ingredienti buoni quello che in nessun caso devi fare mai più è ingozzarti quando sei già pieno perché ne va dell'attimo saluto tutto chiaro? very food ciao 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 ciao